Mia cara Fede quest'oggi sono generoso e ti permetterò di fare un sacco di shopping Puoi spendere quanto vuoi, comprare tutto quello che vuoi Ma ci sarà una sola condizione Dovrai farlo su Wish No Eh sì, eh sì mia cara Fede No aspetta, aspetta, aspetta Hai detto che posso spendere quanto voglio Il che significa che se trovo cose interessanti posso prendere tutto quello che mi pare Non è tutto da buttare su Wish, credo Non lo so, non è neanche io Però oggi ci divertiamo Una cosa al volissimo, questo video l'abbiamo visto da Ale Clasher Ale Clasher non so come lo pronuncia Mettiamo il link in descrizione, è un canale super mega giovanissimo Nato da poco, sta andando alla grande, è veramente fantastico Abbiamo visto l'idea, abbiamo pensato cavolo carino E quindi lo facciamo Punto numero due Questo video sarà solo di acquisti Quindi vi divertirete a vedere le scemenze che compriamo Dopodiché, se mai arriveranno, quando arriveranno, eccetera eccetera Ci sarà il due È più probabile che finisca la trilogia di Timeport prima della fine di questo video Esatto Perché la parte due di questo video Saranno dimenticati, fratello Allora, gli animaletti? Sì Belli Belli gli animaletti Inizio a aprire le pagine ragazzi, poi iniziamo ad acquistare Sono le pareti? È una parete, no, non voglio una parete No Quello per tenere la matita, cos'è? Bellissimo Bellissimo Ok La casetta, bellissima Vai Italiana, no, non tagliamo No, comunque non è la casetta, è solo la formina Secondo me ti stai... L'orologio a due euro Che lo metti Vai, 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 lo voglio l'orologio a due euro Questo mi sembra utile Per pulire la parte delle finestre Questo lo compriamo Io vorrei anche un bel vestito Sicura? Quello a un euro Vabbè sì, un euro un vestito Dai Sì Dai, ma non è vero mai Ti arriva di quelli serpenti e quelli con i bottoni per bambini Quelli ti arriva No, io voglio cose particolari Cos'è, ma cosa? Ah, questa è la prima Ma la facciamo dopo Allora C'è qualcosa di particolare nel tech? Galaxy S30 Ultra S30 Ultra S30 Ultra S30 Ultra S30 Ultra Bellissimo No, io voglio qualcosa di particolare Tipo qualche gadget che non conosci La Nintendo Switch Faker No, la prendiamo Ti prego, a 20 euro io la voglio Allora, per 11 euro Ma dai Ci sono anche recensioni Eh vabbè qualcuno le compra le cose che vuoi Che dici? Dici, ma non ce la faccio È una torta Ah, ma poi selezioni la misura e ti aumenta il prezzo? No No Ok, non frega nulla Eh vabbè sì, se mette 80 pezzi Non ti piace? No, è stupida Voglio qualcosa di figo Ok Questa? No, no, ti prego Che ce ne facciamo Va bene E gli animaletti? No Ma uno Bu Ma sono bruttissimi Mamma mia Sono tutti storti E il portamatita? Ma io non ho capito a cosa serve Però se voi lo possiamo prendere Secondo me è molto utile Tre pezzi color random Sì vabbè 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 La casetta solo è stata La casetta l'avrei comprata No La formina non ci facciamo neanche nulla Che peccata In realtà è bruttissima Questo sì È davvero un orologio C'è anche il colore È rose gold Il mio preferito Perché questo c'è un braccialetto? Rose gold No aspetta Aspetta No, no, no Dai stavo scegliendo No, no, vedo il rose gold Dai No, rose gold Questo è nero Sì Elegante Bello, bello Questo ci sarà utilissimo Poi No, non lo so Ma tanto Non la so la taglia Per tanto, bene No, lo volevo provare U.S. size 8 Che colore lo vorresti? Pink Aspetta No, cioè Allora Pink Qual è la differenza tra pink Per Ebo Perché mi piace tipo Il colore del terzo Lì in alto Questa Sì, però non vorrei sbagliare Secondo me Turchese No, no, no Fai Secondo me è questo Il dusty Boh, il dusty pink Ok Tanto Stef Non lo metterò mai A cristare Ah, ce lo facevo vedere Era questo Non lo metterò mai Ok, ora puoi comprare solo uno al giorno Attenta Se ne vedi più Poi Ma davvero? Non ci arriverà mai 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 Proprio Ma ti arriva E ti arriva un'altra cosa Non lo so Orologio Due euro È il watchtrap Cos'è? No, l'usb L'usb Perché lo ricarichiamo Blu Eh no, mi ha aumentato il prezzo No No, no 6 euro è troppo Hanno a colpa di questo Ok, allora lo prendiamo Blu Col watchtrap Col watchtrap Ok Questa è 100% nostra Rosso e blu Non intendo switch Ragazzi Cos'è? Le opzioni sopra Cos'è? 300 games? Eh, se no hai 3000 No, no Vabbè 300 Vanno bene 300 Adesso non giocheremo manco uno Allora, è tempo di andare in un'altra categoria Fere A te la scelta È l'onore Ti ho detto che faccio il shopping Allora Abbigliamento oppure hobby Dai, qualche abbigliamento anche per te ci sta No Sì, che ti compri un bel maglioncino Abbigliamento È obbio Quindi partiamo dall'abbigliamento e facciamo una cosa rapidissima No, ma è tutto tarocco L'armani, no Poi cos'è questa cosa? Cos'è? Non lo so Aspetta, non ho capito No, cos'è? Che è felpato dentro e così ti scalda Ah, non capi No, dai, no Che me ne faccio? Non voglio le cose tarocche Non possiamo comprare le cose tarocche Dai, chiudi, chiudi Questo è hobby Ma è palestra No, no Ci sono i gatti I cacciavite Cos'è? Questo è per fare Ah, vabbè Ma quello lo vendono anche professionale Cioè ha senso Il cubo per fare le foto Quando tipo devi scattare foto a borsa O qualcosa Cos'è? Non so Lo apriamo, lo apriamo Questo fa crescere le piante È una nuova tecnologia Ah, sì I magneti Quelli, quelli, quelli Sì, belli, belli No Ma c'è Ma c'è l'antipulci per il cane Censuriamo Censura Ci sono cose sconcissime, Steph Eh, quello Ma dove siamo finiti? Eh, quello non possiamo mostrare Ti dicevo C'è l'antipulci per il cane tarocco Cioè glielo metti muore Ma sei matto A mettere robe del genere Ma siamo pazzi Prendiamo l'oro L'oro, l'oro 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 bisogna investire Puoi prendere una cuccia Prendi le camille Che magari perdono il pelo Se li metti sopra Dai Secondo me le cucce Guarda, sono l'unica cosa normale Perché non è difficile farle Quindi Allora E per il resto è quello il problema Paretti Cos'è questa roba? Non lo so Stai facendo cose troppo strane Eh, lo so Siamo finti in un mondo Non eravamo ancora pronti Qualche casegueria è un po' più normale Perché qua si trova Allora Stran Eeeh Pantaloni Intimo Abiti Accessori per animali Top Orologi Accessori per telefono Portafogli e borse Potremmo andare O in articoli per la casa Si O accessori Accessori O decorazione Decorazione Ce l'ho detto tutte e tre Decorazione È perché sono belli questi L'albero di Natale Lo vuoi Stef? Si Si La cascata di luci Si Ce la mettiamo qua dietro Bellissimo Top La sedia da gaming No, troppo grande Un 12 euro poi Oh mio Dio Ballo La lampada di Spider-Man A 12 euro È anche plausibile Voglio uno di quelli Su, su, su Questo Questo? Si Un cuscinone Ok È carino Poi Mars e Mark ci hanno già regalato Ce l'abbiamo già Ce l'abbiamo già E poi, poi, poi Che altro abbiamo? Vedi Sono cose troppo comuni Troppo classiche A parte quelle Ma non abbiamo un giardino Stefano Non lo puoi mettere Dove te le metti Se non da esterno Là dietro No, là dietro Non ci sta nulla Cos'è? Per l'acquario Per l'acquario Ok Bello Questo è di Blitz Di Naruto Bello, eh Non lo vuoi? No No, si Con la nostra parete Ho già Ho già la trapunta Non me ne serve un'altra Peccato Era molto bella È il momento di andare Invece sugli accessori Accessori Ecco, bello Sì Questo è il posto giusto Ma è una bella mascherina No, io vorrei Un braccialetto Ok Di Natale Io l'ho già preso Non ho capito Se è un braccialetto È un orologio Ma qualcosa l'ho presa Quindi Qualcosa arriverà Va bene No, Roblox Perché c'è una pofia di Roblox? Lo vuoi un anello? Sì, grazie Ok Molto bello Questo lo prendiamo È proprio il mio gusto Il coprimani Bello, le action figure Qual è la? Misura A Devi leggere A, B Devi vedere che stai comprando Vai, vai Va bene Ci piace Ci piace Bellissimo Henry Perfetto Poi Vediamo un attimino Ah, erano i fogli d'oro Mi stavo confondendo Sì, sì, sì No, io sono felicissimo di questa Oro Ma questi non li sappiamo usare Non li sappiamo mettere No, no, no Vedrai, vedrai Mi faccio il braccio tutto dorato Cuscino Ci sono dei BTS Non sono i BTS Lo so Tanto Allora Cosa vuoi? Qual è il più carino? Quello, vero? Sì Quindi grey e bianco Grey e bianco Sì Ma era diversissimo Era più carino Vabbè, prendi questo Ma è salito di prezzo, no? Oh Vai Belli per Natale Ma no, ma erano più carini Perché erano tutti insieme Ne puoi prendere tanti Multicol Uno Prendiamone uno, dai Oh, finisce tra 50 secondi, eh Mamma mia Allora non facciamo in tempo Poi Questo mi era riscartato Oh Base a cosa Do le misure? Sei Sei Vai Tanto non lo metterò mai Ok Bellissimo A due euro Poi Abbiamo Belli questi Belli Sei contenta? Sì, beige Beige Perfetto Anche questo ha 58 secondi Oh, sta finendo Fere E poi Infine abbiamo i calzini Quali vorresti? Io nessuno Quindi sceglieteli tu Visualizza carrello 116 euro Perché ci sono 28 euro di spedizione Prezzi pesanti E questi Dobbiamo stare attenti Perché se non facciamo acquisto Poi aumenta il prezzo Alle stelle Fere Questo anello vale Una marea di fesseri Vale 1000 euro Porca miseria Tra il 25 novembre E il 10 dicembre Pensavo peggio No, dai Abbastanza veloce Non arriveranno Forse in un mese riusciamo Non arriveranno Ah, il vestito Scala No, rimuovi il vestito Dai, non lo vuoi Perché? Perché non lo indosserò mai E fa schifo Dai, no Lo prendiamo ormai Prego Stava 130 euro Lascialo lì Io però sono triste Di avere un telefono Dai, no Dai, datemi un telefono A 5 euro Non esiste Prova questo a 28 Ma tanto saranno le cuffie Vedi? No, aspetta La spina deve essere nostra Europea Appena metti il colore Sarà 41 Va bene Però nero, nero Ma che te frega Voglio, voglio nero Ma che te frega Voglio scegliere bene i colori Ma dove? Sì 17 cose Siamo saliti a 167 Il telefono mi preoccupa Ti esploderà in mano Ok E ragazzi Aspettiamo Speriamo che ci sarà il continuo Di questo fantastico video E I soldi più buttati Della storia dell'umanità E di tutta la mia vita Però Vedremo che cosa arriverà in questa casa E cosa ci sarà davvero E cosa non ci sarà Sono stato sempre come altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao